No, ancora merda Will, sai che cazzo? Dai su, un'altra puntata di EpiWiz te la concedo. Oh bene, lo spada trovo, che bello, mi piace. Che cazzo hai fatto? Che casino, quello è sfigato, appena parti già muore, non puoi gesticolare che lui già muore, hanno tutti la spada, che carino, guarda quello se l'ha infilato nel cuore, che piantata, questa è una mazza bambina, hai fatto uno spirito di bimbo? Con molto piacino, ma solo a me mi dai questi belli mongoli, guarda non si muove più le mani, scusa lo sclero però, preso, e adesso? Ah, ci ho rimesso una gamba però eh, dove l'ho lanciata? E quello lì in basso cosa fa? Aspetta che se riesco lo becco così. Adesso faccio uno strike, e uno, e due, e tre, dove vado? Oddio, e vacca, eeeh, quella da tre tonnellate mi è arrivata dritta sui. Eeeh, vabbè. Cosa ho fatto? Il bambino, bambino vieni qua. Eh! Oh! Oh lui! Oddio. Certo! Bravo! Cosa ho fatto? Il si è preso e l'ha preso! Hai schivato il bambino in una maniera meravigliosa. Non adesso. Guarda gli è cresciuto il pisello. Che carino, a quello gliel'hai tagliato. come di tradizione Super Bowl Death basta no? Super Bowl no punti interrogativo e la spazzatura hai vinto vai vai punti interrogativi non mi piacciono troppo perché scusa se i punti interrogativi muori ah stavo dicendo con il death cosa succede sono vesti non dicevo questo però comunque è stato carino ah eri arrivato però non è lì che ti guardano no ma io ce lo faccio vedo bravissimo ha detto che il prossimo se la fa al primo colpo eh ragazzi io ce lo faccio il primo colpo al primo colpo lì ti sei attaccato bravo impossibile certo per me non è impossibile Dio come se l'hai piantata nel culo eh già per decorare questo gioco bravo com'è stato? adesso mi mostro la faccio si top five voglio colpa d'effetto nooo ti è arrivata una sberla che se non avevi il casco che culo papi ne vuoi una? cos'è? un pallino a ziguli ti pare il momento di chiedermi la ziguli mentre giochiamo eh madonna salto bello questo qua mi è piaciuto guarda la testa è andata là in fondo bello oh la gamba la gamba mi ricorda quando fui in montagnano questo non è un ricordo sì ti ricordi prima è preso come uno spiedino come all'inizio bello dai provati il bambino riccio che che come faccio a farla andare questa ah ti devi premuto certo è una schifezza assurda cambiamo livello che è meglio sì perché il figlio bambino vuoi grazie wow è volato non è sparito che brutta morta è morto tritato tu sei sei un bastardo tu sei l'unico che si salva non dovresti sentirti male perché è morto il bambino no no mi sento anche solo ah sì sì se lo vuoi anche finire esatto finisce ci arrivi con una gamba in meno finisce vai vai hai dimenticato la testa non te ne frega niente si sta sbudellando guardalo ma che schifo iupi che bello la testa di mio figlio spappolata molto bella ah immagino che abbiano una giocaabilità paurosa si chiamano don't move don't touch non touch sì ecco guarda guarda che bello non ti devi muovere ti devi muovere sembra Gesù Cristo che vuole ci sono andato dritto in faccia e adesso a settimana ti hai grabato sì ciao iupi ho vinto oddio c'ha visto tutto tra l'altro che ha del buggy jumping questo è un flipper questo è lei vediamo quelli più votati buggy jumping full pieno questo è una cosa che sono giù hai fatto una brutta fine però sono morto non mi sponde più i comandi però beh ma vorrei anche vedere ti stai saltando con l'intestino che cazzolini questo è buggy jumping ecco direttamente è l'ultimo episodio eh guarda che due maloni no ancora questo no scusa ma non ti manca qualcosa ahhh si deve trappare a lui ahhh aia mamma 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 un vassoio di merda di più calcio in curo vai 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 che se arrivi vai che si arrivi oddio arriva giù la marmaglia mamma no non ci arrivi più e il battere in mano Geronimo sopra la signora te l'hai aiutato a salire bene ragazzi anche per oggi abbiamo finito con Happy Wheels noi speriamo noi speriamo di essere stati noi ci salutiamo questo era il decimo Happy Wheels grazie a Dio è finito mentre vediamo l'obesa con il battere in mano e un razzo che tentano di salire verso nuovi orizzonti noi in compagnia dell'obesa vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 a tutti i nostri amici ciao a tutti i nostri amici